Salve amici di Youtube e bentrovati sul mio canale per questa lezione numero 9 di questo corso video di armonia generale, un po' di teoria musicale, tutto improntato verso la comprensione di quelle che sono le dinamiche del jazz espletate dallo strumento che è la fisarmonica. La volta scorsa abbiamo parlato della armonizzazione di una scala maggiore per triadi. Abbiamo visto cosa succede armonizzando verticalmente ogni grado della scala. Oggi ci occuperemo di armonizzare la scala per quadriadi, ovvero aggiungeremo un altro livello alle a quei livelli di terze che abbiamo visto la volta scorsa e formeremo così gli accordi di settima. Sì, perché tutte le quadriadi sono accordi di settima, non c'è verso. A meno che non stiamo parlando di quattro tasti suonati a casaccio, sarà una quadriade dissonante e non sarà un accordo. Ma quando parliamo di armonie, parliamo di accordi, le quadriadi sono solo ed esclusivamente accordi di settima. Gli accordi di settima ce ne sono più di uno, ce ne sono sette gli accordi di settima, li vedremo nelle volte prossime. Oggi ci occupiamo dell'armonizzazione della scala per quadriadi. Eccoci qui per parlare della nostra scala per quadriadi. Innanzitutto capiamo subito che quando diciamo quadriadi stiamo parlando di un accordo, di una struttura armonica, di un'armonia, che dir si voglia, fatta, formata da quattro suoni. Questi quattro suoni andranno, come abbiamo visto per le triadi, andranno per terze. quindi non dobbiamo fare altro che aggiungere all'armonizzazione della scala maggiore, che abbiamo visto la volta scorsa, un livello, un ulteriore livello che dista una terza in su rispetto alla quinta, che era l'ultimo livello. Se questo livello disterà una terza maggiore o una terza minore, dal quinto grado, dalla quinta, dalla dominante, ovviamente dalla tonica disterà di una settima maggiore o minore. E andremo a vedere quello che succede. Gli accordi per quadriadi sono importantissimi nel jazz, perché se una triade andava a dare l'accordo base, quindi quello che può essere una melodia base, una quadriade va a dare delle sfumature molto molto particolari e non solo, all'interno della quadriade ci potrebbero essere delle alterazioni della quinta, alterazioni della settima, della terza, ogni nota, tranne la tonica, abbiamo sempre detto, non si tocca, può avere un'alterazione in eccesso, in difetto, questo che cosa, a cosa serve? Serve a dare una sfumatura tutta particolare all'accordo e i jazzisti ne fanno largo uso di queste, di queste quadriadi e quadriadi con alterazioni all'interno. Vi faccio un esempio. Noi abbiamo nel cuore un pezzo jazz che ci piace tantissimo e dopo tanto tempo siamo riusciti a trovare lo spartito originale. Andiamo alla fisarmonica o al pianoforte, la chitarra, lo strumento che vogliamo e cominciamo a suonare quello che c'è scritto sullo spartito. Ad un certo punto troviamo un accordo con delle sfumature, un accordo che ci dice un fa minore settima con la quinta bemolle. E che cos'è? Non abbiamo mai visto noi nella musica, fino ad ora, nei corsi classici di fisarmonica standard, non abbiamo mai incontrato questo accordo. Cos'è? E questa è una quadriade, una quadriade, un accordo di settima, abbiamo detto con la quinta bemolle, che è una sfumatura molto particolare. Allora cosa facciamo? Non lo conosciamo e quando non lo conosciamo, cosa facciamo? O non suoniamo il pezzo o lo andiamo a sostituire con un altro accordo. Generalmente lo sostituiamo con la radice e viene fuori una cosa che è tutt'altro quello che doveva essere la sfumatura. Allora diciamo, ma questo spartito sarà sbagliato? Ma cosa hanno scritto qui? Forse l'editore ha sbagliato, questo accordo non c'entra niente qui. E poi c'è la terza strada, quella che stiamo facendo oggi, cioè capire come si formano le quadriade, capire dove usarle, quando usarle, perché usarle. E poi vedrete che quando troveremo su uno spartito un accordo, una quadriade con le sfumature, con delle alterazioni, la sapremo applicare e vedremo che nell'autore si è sbagliato e il pezzo risulterà quello che deve essere, con le sfumature giuste. Vi faccio un altro esempio. C'è un'orchestra di 50 violini. Bella! 50 violini che suonano, immaginate come l'orchestra sinfonica. Un violinista non suona più, perché è stanco, si decide, dice tanto che ce ne sono altri 49. Che cosa succede? Se un violinista non suona, non succede assolutamente niente. Invece di trovarci di fronte a una sezione di archi di 50 violini, ci troveremo a una sezione di archi di 49 violini. Non succede assolutamente nulla. Se non suona, non se stona. Sto parlando se non suona. Se invece ci troviamo di fronte a un quartetto d'archi e uno non suona. Non è come il caso precedente. La differenza si sente come? Perché l'assenza di uno dei quattro violini andrà sicuramente ad influire sull'armonica, sulla melodica del pezzo. Ecco perché quando incontriamo, incontreremo un accordo, una quadriade con tutte le sue sfumature, quindi un accordo di settima con le alterazioni. Dobbiamo suonare tutte e vedremo davanti ai nostri occhi e alle nostre orecchie le altre. Il risultato voluto dall'autore e il pezzo ci sembrerà bello, così come deve essere. Come è stato per le triadi? Abbiamo visto, chi non ha seguito può andare a vedere la lezione numero 8, la lezione scorsa, dove abbiamo armonizzato una scala maggiore per triadi. Quindi su ogni grado abbiamo alzato un castelletto, abbiamo alzato i piani su ogni grado. Quindi sul do abbiamo messo il mi, il sol, sul re abbiamo messo il fa e il lao tenendo il re minore. Quindi abbiamo armonizzato tutta la scala. Potete vedere nella lezione numero 8. Adesso andiamo ad aggiungere un altro piano a questa struttura armonica. Che cosa succede aggiungendo? Sicuramente avremo su tutta la scala degli accordi di settima. Perché di settima? Perché abbiamo aggiunto un altro piano distante di una terza rispetto alla quinta e quindi abbiamo aggiunto una settima. Aggiungendo una settima abbiamo formato la quadriade. Perché abbiamo una tonica, una terza maggiore o minore, una quinta giusta o alterata, poi vedremo, e una settima maggiore o minore. Quattro suoni quadriade. Una cosa importante nell'armonizzazione delle scale è questa. Quando armonizziamo un grado di una scala, per esempio armonizziamo il primo grado di una scala maggiore che guarda caso è quella di do. Ma questo vale per tutte le altre scale. Quando armonizziamo il do, noi abbiamo detto che andiamo una terza su e mettiamo il mi. Poi andiamo una terza su, mettiamo il sol, una terza su, oggi con la quadriade metteremo un si. Metteremo un si perché, e non un si bemolle per ottenere il nostro do settima, metteremo un si perché nella scala di do non ci sono alterazioni in chiave. Nell'armatura di chiave non c'è nessun diesis, non c'è nessun bemolle, quindi tutti i suoni devono essere presi naturali. Quando armonizziamo il secondo grado, che è un re nel caso della scala di do maggiore, mettiamo una terza che abbiamo detto essere minore, perché è il fa. Una quinta giusta, il la, una settima minore, perché è il do. Questo perché? Perché è vero che bisogna armonizzare tenendo presente che non ci sono alterazioni in chiave, ma dobbiamo avere presente anche che noi stiamo partendo da una tonica che altrimenti avrebbe avuto degli accidenti in chiave, delle alterazioni, dei diesis o dei bemolle. Vi spiego meglio. Se noi prendiamo il re, secondo grado della scala di do, e lo armonizziamo. Su ci mettiamo il re, mettiamo il fa, la terza, che è minore, perché abbiamo detto che non ci sono alterazioni, il la, che è la quinta giusta, e il do, che è la settima minore. Minore perché abbiamo visto che dista 10 semitoni dalla tonica. Abbiamo il nostro re minore, ma questo è un re minore proprio in virtù del fatto che, considerando la sua tonica il re, avrebbe dovuto avere due diesis, parlando di scala maggiore, dovrebbe aver avuto due diesis in chiave, quindi il fa e il do. Questo è un accordo che noi diciamo minore proprio in relazione a questo fatto. Cioè noi nell'armonizzare un grado di una scala dobbiamo farlo tenendo presente come se fosse la tonica assoluta, quella nota, ma in virtù degli accidenti che abbiamo in chiave. Se prendiamo il re, noi dobbiamo ragionare come se fosse una scala di re maggiore, ma con gli accidenti che abbiamo in chiave, quindi in do non abbiamo nulla. Ecco perché proprio in virtù di questo fatto, quel re al secondo grado di una scala maggiore darà origine a un re minore settima. Adesso le vedremo con calma queste cose. Però ecco, questo l'avrei dovuto dire anche la volta scorsa. Quando si armonizza una scala, bisogna tenere presente la nota, il grado di partenza della scala, come se fosse una tonica a sé stante, ma con gli accidenti che ha in chiave la scala dove lo stiamo utilizzando. Perché questo? Perché se noi prendessimo sul secondo grado di una scala di do maggiore, una quadriade, un accordo di settima, abbiamo detto si va a formare un accordo di re minore settima. ma questo accordo è vero che l'abbiamo considerato nella scala di do maggiore, ma come se fosse il re la sua tonica. Per cui in virtù di questo possiamo dire che è un re minore settima perché il fa non è diesis. È una settima minore perché il do non è diesis, è un do naturale. questo significa che le quadriadi nascono, considerandole a partire dalla loro tonica, ma con gli accidenti in chiave, in relazione agli accidenti in chiave, che la renderanno fruibile in quel contesto tonale. Un re minore settima può essere usato nel contesto tonale di una tonalità di una canzone, di un pezzo che sta suonando nella tonalità di do maggiore. si potrà utilizzare. Perché? Considerando, siccome toni che il re, abbiamo visto che la scala stessa della tonalità di do ci rende obbligatorio eliminare certe alterazioni o in altri casi aggiungere alterazioni che la rendono utilizzabile in quel contesto tonale. Quindi questo, il discorso forse può sembrare un po' complesso, però sono sicuro che con la pratica, con l'esperienza, poi vedremo degli esempi pratici e tutto sarà più chiaro. Allora, cominciamo con l'armonizzazione vera e propria della scala per quadriadi e mettiamo qui sotto il solito schemino che abbiamo visto anche la volta scorsa. Ecco qui il nostro schemino che è apparso e vediamo come prima nota, come toniche, abbiamo tutte le note della scala di do maggiore. Do, re, mi, fa, sol, la e si. Abbiamo la terza, mi, fa, sol, la, si e do. Abbiamo le quinte, quindi quinta giusta per tutti i gradi al primo, al sesto, tranne che al settimo grado che abbiamo una quinta diminuita, perché lo potete scoprire guardando la lezione numero 8. Andiamo ad aggiungere un altro livello, la settima, la famigerata settima. Allora, naturalmente la settima del do sarà una terza sopra il sol ed è un si naturale. Il si naturale darà origine a un accordo che si chiama di settima maggiore che è diverso dalla settima che abbiamo sempre studiato nei metodi di fisarmonica, che è settima dominante che vedremo più avanti. Questa è una settima maggiore, altrimenti detta settima più o settima eccedente. possiamo trovare la scritta negli spartiti di jazz con la dicitura may 7, che sta per major 7. Oppure possiamo trovare 7 più, vuol dire che ci troviamo di fronte ad un accordo che ha la settima maggiore, oltre all'accordo fondamentale. La settima maggiore. Infatti, nella scala di do, il si non è altro che la settima maggiore. Abbiamo visto l'altra volta gli intervalli nella lezione numero 7, abbiamo visto tutti gli intervalli di una scala maggiore. Abbiamo detto che il settimo grado dista di una settima maggiore. Passiamo all'armonizzazione del secondo grado, cioè del re. Il re formato da re fa la, la settima sarà un do, do naturale, perché non abbiamo alterazioni in chiave. Il do dista dal re di una settima maggiore. L'abbiamo visto la volta scorsa, nella lezione numero 7, gli intervalli. Re, do è un intervallo di settima maggiore, perché altrimenti la settima maggiore, nella scala di re, ecco quello che vi dicevo prima, bisogna considerare sempre la tonica. La tonica è un re in questo caso. Sì, siamo nella scala di do, va bene, non abbiamo accidenti in chiave, ma ragioniamo in re. Il re avrebbe avuto come settima maggiore il do diesis. Ed ecco qui che entra in gioco il discorso degli accidenti in chiave, non ce ne sono, quindi il do diventa minore, diventa settima minore, il do diventa naturale. Quindi, quest'accordo si chiamerà re minore settima. Attenzione, ho detto re minore settima, non settima minore. Le differenze le abbiamo già viste tra minore settima e settima minore. Una minore settima è questo accordo, cioè che è un accordo minore con l'aggiunta della settima, in questo caso anch'essa minore. Un accordo di settima minore è quello che è sostanzialmente, quello che noi chiamiamo di settima dominante, lo vedremo fra poco. Andiamo avanti. Abbiamo il mi. Terzo grado, sol, è una terza minore. Quinto grado, si, è una quinta giusta. Aggiungiamo la settima, che è un re naturale. Sempre in virtù del fatto che il mi avrebbe avuto il re diesis come settima naturale maggiore, avendo il re naturale, anche questo è una settima minore, l'intervallo di settima minore. L'accordo è anche un accordo minore, perché si va a formare sul mi minore, come vedete dallo schema, quindi anche questo sarà un accordo di settima minore. Passiamo al quarto grado, il fa. Sul quarto grado, la scorsa volta, abbiamo visto formarsi un accordo di fa maggiore, nel caso della scala di do. Andiamo ad aggiungere la settima, che in questo caso sarà una settima maggiore. perché considerando il fa come tonica, il fa ha come accidenti, come alterazioni in chiave, solo il si bemolle, il mi è un mi naturale, una settima maggiore. Quindi è un accordo, praticamente come tipologia, uguale a quello che si andava a formare sul do, una settima maggiore sul do, una settima maggiore sul fa. Andiamo al sol, sul sol si andava a formare per triadi un'armonia di sol maggiore. Aggiungiamo la settima, che è una settima minore, perché considerando il sol come tonica, nella scala di sol, il fa sarebbe stato diesis, perché la tonalità di sol ha un diesis in chiave, che è proprio il fa. Ma, il discorso che abbiamo fatto prima, che viene sempre a galla, nella scala di do, accidenti in chiave non ce ne sono, ci sono alterazioni in chiave. Quindi, il fa diventa fa naturale. È un accordo maggiore, accompagnato da una settima minore, dà origine a quel famoso accordo, che noi utilizziamo fin da quando abbiamo imparato a suonare la fisarmonica, e che sta subito sopra al do, e che si chiama sol settima, nel caso della scala di do, è che sappiamo chiamarsi con il nome tecnico di accordo di settima di dominante. È un accordo maggiore, con la settima minore. Accordo maggiore, con la settima maggiore, dà origine a una settima maggiore. Accordo minore, con la settima minore, dà origine a un accordo di settima minore. In questo caso, ci troviamo di fronte a un accordo maggiore, con la settima minore, dà origine a un accordo di settima di dominante, si chiama. Passiamo al La. Il La era minore, la minore, sull'armonizzazione per triadi. Aggiungiamo la settima, che sarà anch'essa minore, perché è un Sol naturale, che altrimenti sarebbe stato nella scala di La, considerando il La come tonica, sarebbe stato un Sol diesis, qui è un Sol naturale, e ci troveremo di fronte ad un accordo di La minore, settima. L'ultimo accordo della scala per quadriadi è il Si, che abbiamo detto la volta scorsa, e ve lo vediamo anche da questo schema, che sul settimo grado si va a formare un accordo di quinta diminuita, perché sia la terza e la quinta sono abbassate di mezzo tono, in quanto, considerando il Si come tonica assoluta di una scala, avrebbe avuto come terza un Re diesis, come quinta un Fa diesis, ma siamo nella tonalità di Do, non abbiamo alterazioni in chiave, e quindi sia il Re che è il Fa sono naturali, quindi sia il Re e la terza che è la quinta sono abbassate di mezzo tono, accordo diminuito. Aggiungiamo la settima. La settima rispetto al Si è un La, che è naturale. È un La naturale, perché non abbiamo alterazioni sul La nella scala di Do, è un intervallo di settima minore, e che cosa si va a formare? Questo è un accordo. Innanzitutto è un Si minore, con la quinta diminuita. Allora, il Si minore che cosa avrebbe avuto? Avrebbe avuto la tonica Si, la terza abbassata di mezzo tono, quindi il Re, e ci siamo. La quinta sarebbe stata il Fa diesis, e La settima il La. Questo sarebbe stato un Si minore settima. Ma il Fa, il Fa, è naturale, perché non abbiamo alterazioni nella scala di Do. Quindi è un Si minore settima, alla quale noi andiamo ad abbassare la quinta. E si chiama proprio, in due modi, o Si minore settima, quinta bemolle, perché bemolliamo la quinta, oppure c'è un nome proprio questo accordo, e si chiama accordo semidiminuito. Questi sono degli accordi, sono sette accordi che si formano sulla scala. Ovviamente abbiamo sette suoni, sette accordi, sette quadriadi, sette accordi di settima. Ma non sono quelli che vi ho detto prima. Noi abbiamo detto all'inizio che gli accordi di settima sono di sette specie, ma non sono queste qui, ce ne sono altri, che si andranno a formare su altre scale, sulle scale minori, su altri tipi di scala. Sicuramente sulle minori. Perché qui abbiamo visto già il Do e il Fa, sono due che sono uguali, settima maggiore. Poi abbiamo tre accordi di minore settima, il Re, il Mi e il La. E poi abbiamo questo semidiminuito. Quindi, che cosa vuol dire? Che non tutte le sette specie, degli accordi di settima, sono presenti nella scala maggiore? Ce ne sono alcune, le altre le troveremo in altre scale. Importante che abbiamo visto come si armonizza la scala, adesso la andiamo a vedere per semplicità al pianoforte, per vedere più da vicino come si formano naturalmente. Comunque, lo schema sarà sempre questo, adesso vediamo come si applica sulla tastiera. Eccoci qui per vedere un po' sulla tastiera, come si formano questi accordi. Sul primo grado abbiamo detto c'è il Do, la sua terza è il Mi, la quinta il Sol, la settima sarà il Si naturale. Questo accordo è il cosiddetto accordo di Do Major 7, cioè il Do con l'aggiunta della settima maggiore, perché il Si rispetto al Do è una settima maggiore. Andiamo al secondo grado. Sul secondo grado formavamo il Re minore sulla armonizzazione per Tiedi, andiamo ad aggiungere la settima, che in questo caso è minore rispetto al Re, che altrimenti sarebbe stato un Do diesis, e quindi ci troviamo di fronte ad un accordo di Re minore settima. Al terzo grado avevamo il Mi minore, aggiungiamo la settima, che anche in questo caso sarà una settima minore rispetto al Mi, e otteniamo un accordo di Mi minore settima. Passiamo al Fa. Quarto grado. Avevamo un Fa maggiore al quarto grado, con l'aggiunta della settima, in questo caso un intervallo di settima maggiore, otteniamo l'accordo di Fa Major 7, oppure, detto, Fa settima maggiore, o Fa settima più. Passiamo al Sol, torno all'ottava, scendo di un'ottava per comodità nella camera, ma facciamo finta che stiamo andando avanti sulla nostra scala. Anche perché nelle quadriadi non si esce mai fuori dall'ottava, cioè la quadriade non va mai oltre l'ottava. Abbiamo visto il Do, il Re minore settima, non si va mai oltre l'ottava, si resta sempre nell'ottava. Noi adesso scendiamo di un'ottava per comodità di riprese. Quindi sul quinto grado avevamo il Sol maggiore con l'avvento della settima, che in questo caso rispetto al Sol è un intervallo di settima minore, perché altrimenti la maggiore sarebbe stato il Fa, otteniamo quello che chiamiamo accordo di settima dominante, ossia un accordo maggiore con la settima minore. Passiamo avanti al La. sul sesto grado avevamo un accordo minore, in questo caso La minore, con l'aggiunta della settima avremo un accordo, come secondo e terzo grado, un accordo di minore settima, La minore settima. E passiamo invece al Si, quello che è un po' più particolare. Noi avevamo sul settimo grado un accordo diminuito, perché abbiamo detto che abbiamo una terza e una quinta tutte e due abbassate, perché altrimenti, considerando come tonica il Si, sarebbero state Re diesis e Fa diesis. Ma, proprio per il fatto che non abbiamo alterazioni in chiave nella tonalità di Do, dobbiamo abbassarle. e quindi ci troviamo di fronte a un accordo diminuito. I accordi diminuiti li abbiamo visti nelle lezioni precedenti, che potete tranquillamente riguardare. Aggiungendo una settima, che in questo caso è un La naturale, quindi una settima minore rispetto al Si, che altrimenti sarebbe stato un La diesis, che accordo è questo? Un accordo diminuito con la settima. Questo è un accordo semi-diminuito, abbiamo detto prima. Perché? ha il quinto grado abbassato. Se noi considerassimo un Si minore settima, Si minore è questo, con la settima aggiunta, sarebbe questo qui. Si, Re, Fa diesis, La. Se abbassiamo la quinta, perché il Fa diesis è la quinta rispetto al Si, abbassando la quinta, otteniamo proprio l'accordo che abbiamo visto prima. Allora questo è un Si minore settima con la quinta bemolle. Si minore settima, quinta bemolle. Se ci fossimo trovati in un'altra scala, avremmo avuto un altro tipo di accordo. Per esempio, in una scala di Re, al settimo grado, abbiamo un Do diesis. In questo caso, la quadriade che si va a formare sul Do diesis è un accordo di Do diesis semi-diminuito o Do diesis minore quinta bemolle. Quindi, questo discorso è trasportabile, è da trasportare, non trasportabile, su tutte le scale. Bene, ragazzi, siamo giunti al termine anche di questa lezione numero 9 e abbiamo visto l'armonizzazione della scala per quadriadi, della scala maggiore per quadriadi. Abbiamo visto su di essa formarsi degli accordi di settima. Abbiamo detto non sono questi tutti gli accordi di settima esistenti, perché ne sono solo alcuni, perché abbiamo visto che su molti gradi abbiamo lo stesso tipo di accordo, minore settimo, settima maggiore. quindi tutti gli altri i tipi di settima, sono di sette specie, li andremo a vedere piano piano nelle prossime lezioni. Se non lo avete già fatto, io vi invito ad iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle prossime lezioni, ma anche sulle novità musicali del nostro canale, che si occupa anche di altre cose, si occupa di distribuzione musicale oltre alle lezioni. Se vi è piaciuto questo video, vi invito a lasciare un like o un commento se vi fa piacere, positivo o negativo, l'importante è che ci aiuti a crescere insieme. Ci vediamo alla prossima video lezione, un saluto, un abbraccio da Antonio Altieri.